Abbinare una cosa importante, un simbolo della città come l'Arezzo, la squadra, a un altro simbolo così importante come la Madonna, benissimo, anzi contentissimi. Edon Alvaro Bardelli, parroco del Duomo di Arezzo, a gettare acqua sul fuoco dopo quanto è accaduto sulle nuove maglie dell'Arezzo Calcio. A sollevare le polemiche non tanto l'immagine della Madonna del Conforto nella prima maglia di colore amaranto, quanto il video di una modella che indossava la seconda maglia di colore bianco stesa di fronte all'altare del Duomo. Intanto precisiamo una cosa, io personalmente, con quanto parroco del Duomo, avevo autorizzato a fare delle foto di presentazione. Diciamo che quelle, alcune foto, forse non era proprio il contesto adatto davanti, e che per alcune persone, che poi si sono lamentate con il Vescovo, ha destato un po' qualche perplessità. Immagini che dopo una telefonata da parte del Vescovo Andrea Migliavacca sono state rimosse dai canali della società. Sì, ma non certo, sono, diciamo, inappropriate e luogo inadeguato, ma io grandi scandali, sinceramente, non ce li vedo. Questo simbolo, riferendosi alla Madonna del Conforto, afferma Francesca Manzo, figlia del presidente e titolare di Reverie Conic, il brand che da tre anni veste l'Arezzo è meravigliosamente rappresentato in Duomo. Proprio per questo avevamo scelto l'interno di quest'ultimo per presentare questa prima maglia, che vuole, in ogni sua caratteristica, omaggiare questa immagine sacra di Maria e portarla in campo con noi. Siamo profondamente dispiaciuti, continua Francesca Manzo, che questa nostra iniziativa sia stata interpretata diversamente in alcuni scatti, e perciò abbiamo deciso di ritirare alcune foto fatte all'interno del Duomo. Siamo veramente orgogliosi del risultato che abbiamo raggiunto quest'anno con le tre maglie e ciò che abbiamo voluto rappresentare. Mi viene da pensare a Fra Galdino quando erano messi sposi con Fra Cristoforo, dice che quando Agnese e Lucina sono fuggiti di casa, perché Don Rodrigo aveva mandato a prenderle, Fra Cristoforo li porta nel rifugio nel convento, e Fra Galdino dice, ma padre in convento di notte con donne, insomma, e Fra Cristoforo dice, ogni amunda amundis, cioè tutto è pulito per chi è pulito, insomma, ecco, diciamo, avevano la sua autorizzazione, quindi questo è importante. La autorizzazione a fare delle riprese, questo senz'altro, assolutamente, sul soggetto, sulle cose, e magari se le avessero fatte vedere prima di pubblicarle, forse avremmo detto, beh, queste cose qui le potete fare benissimo nelle scale esterne che stanno benissimo. Ripeto, il luogo inappropriato, però non ci ho visto né la malizia, né, diciamo, così. Ma una tempesta in un bicchiere d'acqua, però la cosa ha preso campo, poi è stata travisata, anche come se il vescovo fosse il contrario, invece è il più favorevole ad avere rapporti con la squadra, con... c'è andato anche un pochino di mezzo lui, questo mi dispiace, ma... C'è anche una squadra della diocesi, per cui... Ah, sì, ma lasciamo perdere, quella avrei da ridire qualcosa. Quella non dà la benedizione, va bene. No, no, quello facciano loro pure, sa, io sono un'età che, ma nemmeno sulle panchine delle tribune ci posso stare, comunque questo è un altro discorso. Però Don Alvaro ti fa Arezzo. Ah, certamente, sì, 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 certamente, viva l'Arezzo, bravi, va tutto bene, grazie alla società per quello che fanno, per quello che faranno, con tutto l'affetto e la benedizione della diocesi e del vescovo in particolare, questo lo posso assicurare al 100%. Terminerei con una battuta, dato che sono esorcista, perciò sono del ramo, e potrei dire così, che siccome il diavolo ce l'ha con la Madonna, e allora non gli è piaciuta questa storia, ha messo su, ha imbasti tutto questo casotto sulle maglie, comunque, forza, Rezzo, bravi ragazzi e avanti. Con la benedizione, ripeto, è tutto il bene della diocesi, della Madonna fuori dubbio. mio e soprattutto del vescovo, che vuole molto bene alla squadra dell'Arezzo.